eccomi 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 buonasera amici amiche rossoneri e vai ragazzuoli e ragazzuoli belle come dico sempre come dirò sempre buona serata a tutti di questo giovedì 19 ottobre 2023 e buona giornata se mi vede il giorno dopo di venerdì 20 ottobre 2023 perché faccio così perché ci conviene andare all'URD ci conviene andare veramente all'URD in tutti i posti sacri che volete a fare benedire la nostra squadra ma soprattutto io azzardo i nostri preparatori perché con loro c'ho sua morte punto a capo allora ragazzi lo ripeto buona serata di questo giovedì 19 ottobre 2023 ore 19 e 02 le notizie sono sempre belle fresche anche se registrate ragazzi cosa volete che vi dica per la prima volta il vostro Alex non sa cosa dirvi come apertura di video per cui meglio che mi scrivete voi sotto il video cosa pensate perché io farei anche un minuto di silenzio eh sì sì proprio un minuto di silenzio farei partiamo con l'unica notizia positiva le dichiarazioni di Adli che oggi è stato intervistato sul momento di fiducia che ha dalla parte da parte di Pioli meno male per fortuna perché sennò è Pioli Adli ha dichiarato questo testuale parole le leggo Pioli è sempre stato vicino a me e mi ha sempre fatto sentire dentro la squadra dandomi consigli un episodio mi ha dato molta fiducia prima di Roma Milan prima partita dopo la chiusura del mercato Pioli è venuto da me e mi ha detto che era molto felice che rimanessi al Milan mi ha dato tanta fiducia beh comunque io Adli ti faccio guarda Adli devi veramente lavorare sodo e credere nei tuoi mezzi velocità di pensiero azzarda fai dis fa sbaglia pure non c'è problema sei grande allora ragazzi io lo dico subito poi se mi volete credere bene se non volete credere fate quello che cavolo volete non c'è problema allora ecco una cosa che non ho detto nel video di ieri io voglio mandare un abbraccio che questo non c'entra niente col calcio a tutte le povere famiglie palestinesi che hanno subito quello schifo del disastro dell'ospedale a Gaza che è veramente una cosa che mi ha colpito tantissimo non lo dico per fare il bello bellino lo sapete voi che mi seguite da tanto tempo ma queste cose veramente mi fanno schifo per cui un abbraccio a queste povere famiglie questa povera gente che spero che trovi la loro pace la loro serenità veramente uno schifo quello che sta succedendo richiudiamo questo discorso perché ieri non mi sono dimenticato di dirlo e ci tenevo particolarmente a dirlo ritorniamo a noi allora ragazzi parliamoci molto chiaramente allora mi dispiace per sportiello mi dispiace e mi ha dato parecchio fastidio però ve lo dico ve lo stradico me ne frego perché contro la juve vinciamo lo stesso sì questa è la verità di quello che penso non ci credi stai facendo gli scongiuri stai toccando ferro affari tuoi io non tocco ferro non faccio gli scongiuri invece sono convinto di quello che cavolo dico contro sta sta banda di puntini puntini lo dico simpaticamente come sfottò sia chiaro allora parliamoci molto chiaramente questo il comunicato ufficiale che anche questo lo leggo testualmente da parte del nostro club marco sportiello ha riportato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro il portiere dovrà osservare un periodo di dieci giorni di riposo dopodiché verrà valutata l'evoluzione con una nuova risonanza magnetica o parliamoci molto chiaramente qua parliamoci molto chiaramente stesso problema che ha avuto l'anno scorso mike magnan come mai succede lo stesso problema a sportiello allora la prima risposta logica è normale perché quella parte del fisico di un calciatore che fa il portiere cioè il gemello del polpaccio è normale è tipico del portiere che si infortuni che si fa male sì va bene piccolo particolare oggi è stato rivelato da transfer market e dei giornalisti che hanno verificato la notizia che sportiello non si faceva male dal 2016 guarda caso adesso guarda caso al polpaccio guarda caso lo stesso problema di mike magnan c'è un punto di domanda da accendere c'è un campanello da accendere sì i preparatori allora io l'ho detto oggi nel mio instagram privato a chi mi segue e scusatemi se oggi non ho fatto molti post ma perché ero preso ma riprendo da da stasera senza nessun problema raccontarvi anche la verità su telegram tutto il resto allora parliamoci molto chiaramente ma parliamoci molto chiaramente e qui mi rivolgo ai nostri preparatori se dovreste vedere questo video allora io ve lo dico simpaticamente parlando nel rispetto del vostro lavoro ma io dico ma vi fate delle domande a voi stessi un po di vergogna non approvate non dite niente di come fate la preparazione ma almeno diteci qualcosa diteci anche una palla che magari siamo tutti contenti invece lo stesso problema di mike magnan sportiello non si faceva male da sette anni arriva al milan guarda caso al polpaccio al gemello come mike magnan l'ho detto già l'estate scorsa lo staff preparatori ci vorrebbe una ventata d'aria fresca con rispetto parlando nei confronti del loro lavoro ma i punti domanda sono tanti e leciti e io ho il diritto di chiedermelo da tifoso da tifoso da tifoso prima di tutto è il cazzo lo stesso problema di mike magnan ma dico stiamo scherzando o parliamoci chiaro sportiello qua sta fuori un po di tempo adesso adesso qui dieci giorni risonanza magnetica questo sta fuori due mesi però c'è una bella notizia vabbè comunque contro la juve gioca antonio mirante e vabbè la prima partita ufficiale dopo due anni seria vabbè ma c'è una grande notizia ragazzi forse sportiello sgomma e mi dispiace per lui però sportiello dà la colpa chi anche ti ha preparato atleticamente o molto probabilmente come mangi tu che cavolo ne so o che cavolo hai fatto tu non lo so può essere colpa dei preparatori può essere colpa di sportiello può essere colpa della sua età e anche del suo fisico ma comunque tutti quanti tutte queste cose che ho detto quattro cose hanno una colpa prendiamoci chiaro beh colpa è anche degli atleti come si preparano e questo va detto ma c'è una bella notizia siccome già un po di anni fa è un certo sinisa mialovic pace l'anima sua un uomo un uomo che è stato comunque un grande calciatore una grande persona mialovic grandissimo veramente lo ricorderemo sempre scoprì donna rum adesso è stato chiamato da pioli un certo andrea bartoccioni chi è andrea bartoccioni è il nostro classe 2004 della nostra stupenda primavera eccezionale sfavillante spumeggiante di ignazio abate bene il nostro portiere andrea bartoccioni classe 2004 ha subito solo cinque gol in otto partite tra campionato e youth league cioè la champions league dei giovani della primavera avete udito avete udito solo cinque gol oltre ad avere una grande difesa avere costruito una grande squadra ignazio abate grandissimo ignazio abate bartoccioni un gran portiere vuoi vedere che qui abbiamo scoperto qualcuno anzi ci può essere la possibilità ho sbagliato a parlare di scoprire qualcuno che in prima squadra magari mette la faccia la testa fuori eh ragazzi qui non si scherza il mina scopre talenti parliamoci molto chiaramente in passato abbiamo fatto degli sbagli clamorosi abbiamo regaliati agli altri ma adesso non più eh ah poi qualcuno di voi mi ha segnalato l'apponava vabbè dai ma no ma quello ragazzo deve farsi le ossa comunque ragazzi cioè parliamoci chiaro cioè dai basta tutti gli anni la sessa storia se non è bagnan e sportiello se non è sportiello vabbè ciucu eze vabbè questo qua vabbè insomma ciucu eze ma poi i muscoli risentono anche del nervoso e lo stress fisico ciucu eze secondo me anche un po' frustrato da fatto nervoso che non gioca come dice lui e questo qua si è fatto pure male ciucu eze ha 24 anni sportiello ne ha 31 è il problema di prendere i calciatori con qualche anno in più però non vuol dire perché come ho detto adesso ciucu eze ha 24 non vuol dire qui vuol dire la preparazione atletica come mangia un atleta come si allena un atleta come sta attento al suo fisico l'atleta eh eh parliamoci molto chiaramente oh eh eh poi una cosa la voglio dire e poi chiudo qua il video avete non so se avete notato tutti questi ragazzi questi tre calciatori tonali con l'altro quell'altro ancora eh fagioli e e zagnolo adesso poi vediamo come si allargerà la cosa tutti beccati eh tutto il resto gli avvocati no con la broga giustizia come giusto che sia poi guarda caso dicono sono tutti pentiti e piangono allora prima fanno i casini e poi tutti pentiti e piangono fanno tutti così va bene lasciamo perdere questo mondo questo mondo è così vi mando un abbraccio forza mina sempre comunque ovunque di quello che vi ho detto prima ne sono sicuro domenica sera non vedo l'ora di vedere sta partita impacchettiamo sti giuventini e fuori dei bar vi mando un abbraccio ciao